buongiorno oggi vorrei presentarvi per chi non lo conoscesse il mondo di vere essenze ovviamente quello che mi sta più a cuore è sito a monte rotondo in via giacomo matteotti 16 potete trovare dei profumi con delle fragranze fantastiche da floreali a fruttate a orientali acquatiche a legnose agrumate e aromatiche dalla scrub per il corpo ai bagnoschiuma per noi e per i nostri bambini dalle saponette dai micado crema corpo crema mani balsamo labbra e trucchi e tanto tanto altro da oggi nello store di monte rotondo potete trovare anche i trucchi ovviamente con zero parabeni e tutte cose naturali potete trovare vere essenze monte rotondo su facebook e su instagram un abbraccio a tutti spero di esservi stata utile e spero di trovarvi nel negozio